Da domani entrerà nel vivo la campagna vaccinale anticovid per gli ultraottantenni che hanno manifestato il proprio interesse registrandosi sulla piattaforma della regione Abruzzo. Le somministrazioni dei vaccini andranno avanti fino al 30 aprile con orario continuato dalle 8 alle 20 all'interno del padiglione Becci del porto turistico Marina di Pescara, struttura che la camera di commercio di Chieti Pescara ha messo a completa disposizione della ASL per la campagna vaccinale. Rossano Di Luzio, direttore della unità operativa complessa di organizzazione e cure territoriali della ASL di Pescara, dunque si parte con la campagna vaccinale anticovid per gli over 80. Non rimarrà fuori nessuno, prevediamo anche degli arrivi nel mese di marzo, nella prima settimana di marzo e ci siamo posti come obiettivo quello di concludere questa fase sugli ultraottantenni in tre settimane, quindi nelle ultime due settimane di febbraio e nella prima settimana di marzo, per poi riniziare sulla seconda settimana di marzo per fare le seconde dosi. Noi ci siamo presi l'impegno di utilizzare appieno tutti i vaccini che arrivano settimanalmente nella provincia dell'ASL di Pescara. Le dosi sono programmate dalla struttura commissariale centrale, dal dottor Arcuri, e quelle che arrivano sono programmate da questa struttura. Nel capoluogo pescarese sono più di 5.000 gli ultraottantenni che hanno espresso il proprio consenso alla vaccinazione, ma sul portale della regione la finestra resta ancora aperta per quanti volessero manifestare il proprio interesse. In tutta la provincia il numero delle adesioni raggiunge oltre 11.000 unità a fronte dei 26.000 assistiti censiti dall'ASL. Abbiamo cercato di disseminare su tutto il territorio della provincia dei centri di vaccinazione. Ne vorremmo attivare circa 11, compreso Pescara, in maniera tale che l'anziano faccia il minor numero possibile di chilometri per avvicinarsi al suo centro vaccinale. Però non possiamo farli dovunque, in tutti i comuni, perché abbiamo anche comuni dove ci sono 5 iscritti. Quindi il tempo per portare questi vaccini non corrisponde a efficacia e efficienza della vaccinazione. Gli ultraottantenni pescaresi intanto cominceranno domani e la chiamata sarà per appuntamento, onde evitare confusione ed assembramenti. Dottor Di Luzzi, ovviamente ci saranno degli orari da rispettare, nessuno sarà lasciato indietro però? Assolutamente, tutte le persone chiamate per quel giorno avranno il loro vaccino, per cui invito tutte le persone anziane a non recarsi prima del loro orario nei posti dove si effettuerà la vaccinazione, ma di rispettare l'orario. Il vaccino sarà per tutti, non venite prima perché altrimenti creiamo assembramenti e aspetterete più a lungo.